il dream social park oltre ad esserci l'autoteca il campo da calcio il bar c'è soprattutto anche il dream in tavola un servizio importante per i nostri clienti forno a legna e tante sfizioserie sono le nostre prerogative la pizza biologica con farina zero i nostri prodotti genuini gli antipasti della nostra cuoca zia antonella le sfizioserie i primi piatti fatti sempre da lei in modo squisito il dream in tavola ha per la fase autunnale realizzato un nuovo programma settimanale dalla domenica al venerdì menù a 10 euro composto da mini squisiteria un primo una pizza scelta e una birra mentre c'è un menù a 14 euro composto da antipasteria completa di squisiteria ospizioseria con primo o pizza scelta più la birra inoltre potete scegliere dal menù alla carta tante altre cose di ottima fattura il tagliere for fatto da formaggi salumi noci e pane duro paesano oppure ottima carne della macelleria villani sia come tagliate ma soprattutto come scottono o picagna vi ricordiamo che la prerogativa della nostra struttura del nostro ristorante e pizzeria dream in tavola è quello di servire le nostre famiglie le famiglie che vogliono gustarsi una serata in totale relax tranquillità e gastronomia mentre i bambini dopo aver mangiato il menù pizza o il menù bambini possono essere accorti la nostra ludoteca dalla dream animation e divertirsi per l'intera serata pomeriggio o mattinata mentre gli adulti a tavola possono gustarsi le nostre specialità vi aspettiamo il servizio ludoteca è sempre a disposizione tutte le famiglie tutti i pomeriggi dalle 16 alle 24 e la domenica a pranzo uno dei momenti più belli al dream in tavola sicuramente è la domenica a pranzo tante squisiterie e sfizioserie offerte nel menù a 20 euro dalla nostra cuoca zia antonella con un primo a scelta è una splendida tagliata di carne per associare un'ottima disponibilità di vini alla carta per diriziare tutti i palati più sopraffini quindi le famiglie rilassate a tavola i bambini dove aver pranzato alle 12 e 30 o a luna possono trascorrere fino alle 6 di pomeriggio una splendida giornata di divertimento con le nostre animatrici in ludoteca alla dreamland quindi una domenica perfetta per la famiglia al dream social park a disposizione di tutte le famiglie prenotate il vostro tavolo non mi resta che aggiungere un posto in tavola